Hello, hello, benito a sé ed eccovi di nuovo qua e il video di oggi è aprendo un super calendario dell'avvento del sito di Look Fantastic. Guardate quanto è bello, quanto è gigante, qua arrivo con l'accetto, il mio l'ho già aperto e così, non cade niente, così è come si vedono tutte le caselle, è davvero un calendario molto molto bello, io avevo ricevuto anche quello dell'anno scorso, però sono andato in Brasile e poi non vi ho fatto più nessun video a riguardo, quindi è il mio primo video con il calendario dell'avvento e se vi piace questa tipologia del video, già lasciate subito un like qua sotto se sei curioso per sapere cosa c'è in questo calendario dell'avvento di Look Fantastic. Vi dico già subito che il prezzo di questo calendario è di 110 euro, ma il prezzo reale che è quello di tutti i prodotti contenenti all'interno di questo calendario è di 550 euro, quindi wow, vediamo subito di cosa si tratta, allora cerchiamo di posizionare, non so neanche come farvelo vedere perché io andrei ad aprire subito la casella numero 1 che è tipo enorme, vediamo cosa c'è dentro, wow, questo che cos'è? The Rituals Ayurveda, è un profumo per ambienti alla rosa e sweet almond e olio di mandorle. L'ho già montato, è un, come vi dicevo, un profumo per ambiente. Io adoro le cose di Rituals perché, cioè, sono proprio delle profumazioni molto molto piacevole e durature. Questa qua sicuramente la lascerò nella mia stanza, fa sì arredamento perché è molto molto bello, ma la profumazione è davvero davvero buona. Iniziamo bene questo calendario dell'avvento. Adesso io non so se questo è una fragranza in misura normale, però mi sembra abbastanza grande, 270 ml, può essere una versione più piccola, può essere. Facciamo subito la casella numero 2. Ok, qui, questo è leggerino. Prima poi lo farò cadere sicuro. No, così non funziona. Ecco, cambiate un pochino magari così e riuscirete a vedere un po' meglio. Comunque, casella numero 2. Cosa c'è all'interno della casella numero 2? Una mini size di una crema per gli occhi di Drink Elephant. Ho sempre sentito parlare molto bene di questo prodotto e non vedo l'ora di provare questo prodotto, no, di questa, di questa marca. E mi ero dimenticata di mostrarvi che qui arriva anche un fogliettino che contiene all'interno però tutti i prodotti e che non voglio vedere, quindi voglio prima scoprire cosa c'è. Apriamo la casella numero 23 perché è caduta. Dai, apriamola. Dai foca, amica. Optimal Screen Skin Pro, che poi è tutto in inglese, francese, tutte le lingue a parte l'italiano. Comunque è una crema nutriente per il viso. Questo brand, Espa, mi trovo di solito molto bene con i loro prodotti e questa è proprio una full size, quindi 55 ml di prodotto. Yes! Io ho in programma di comprare un altro calendario dell'Avento. Sono molto curiosa di sapere se c'è qualche calendario in particolare che non avete ancora visto e che volete vedere. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io qualche idea già ce li ho e sono molto tentata di prendere, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti. Magari mi faccio tentare e vi faccio un altro video con un nuovo calendario. Adesso passiamo qui alla casella numero 4 che anche questa è leggerina. Vediamo che cosa c'è. C'è Candle Care Advice. Demi Mini. Vediamo che cos'è. Che è Natural Wax Vegan Coconut che è un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' una mini candellina col corpo di una donna. Ma questo non si accende. è super profumata. Wow. Non so dove la metterà probabilmente nel mio... di fianco al mio letto. Io adoro questa forma femminile a clessidra così sensuale. Adoro. Andiamo alla prossima cassetta che sarebbe la numero 5. Raga, la numero 5 è tipo... Ah! What the fuck? Enorme! Ok, lo vedo che c'è. Ah, è una maschera. Allora, è una maschera autorescaldante per gli occhi. Quindi per distressare gli occhi, togliere lo sguardo strano. Qui dice che è perfetto anche per i viaggi perché appunto è una confezione singola. Non ho mai provato questo prodotto, neanche niente di questo brand, ma non vedo l'ora. Ragazze, torno subito che devo mettere Ariel a letto. Eccomi tornata. Bisogna fare prima le cose importanti. Adesso sono le 9 e 45 di sera. Domani è Halloween e Ariel sta andando a letto. Io lo devo mettere sempre a letto. Quindi piccola pausa. Però già siamo tornate subito. E apriamo la prossima casella, che è la numero 6. La numero 6 è piccinina. È una maschera 3 in 1. È conditioner, hair mask e finish cream di Paradox. Io ho altre maschere di questo brand e mi sono sempre trovata bene, devo dire. Poi tra l'altro le maschere in questi pack così mi ispirano un sacco perché mi sanno proprio di una medicina per i capelli. Tipo qualcosa di super power. Comunque vi farò sapere come mi troverò con questa maschera. Prossima casella, la casella di numero 7. Questa è anche questa piccolina. Mo' vediamo. By Terry. Io ho una cipria a un polvere libera di questo brand By Terry e mi piace un sacco. Io la uso principalmente qua sotto le occhiaie per fissare il contorno occhi e dà una piallata che non avete idea. E questa invece cos'è? Questa... Ah! Oh, vedi? È la stessa versione. Quella che vi dicevo è questa qua. Di By Terry. Solo che è in polvere libera. È Yaluronic Powder. E questa che è arrivata nel Palalto Mini. Bellissima. Madonna. È praticamente la sua versione però è impressata. Che arriva anche con... No, non arriva. Sì, sì, arriva con la spugnetta. Bellissima. È spieghietto, tutto fantastico per portare proprio nella borsa. Che bello. È so cute. Fino adesso devo dire molto contenta. Spero di trovarmi altri prodotti di make-up perché... Mi piace, mi piace, mi piace. Prossima casella. La casella di numero 8. Questa invece è tra le caselle grandi. E troviamo all'interno due prodotti. Due prodotti giganti. Uno è il Pumpable Plumping Lip Gloss con vitamina E di Make-up Revolution. È un gloss trasparente da quello che intuisco di quelli che fanno un po' pompare le labbra. E questo invece è un rossetto sempre di Make-up Revolution. Vediamo il colore. Spero che mi piaccia. Ah, guarda che bello. Il packaging è un dettaglio proprio molto carino qua sopra. Così un po', io direi rose gold. E il colore è un rosso freddo. Mmm, mi piace come colore. Molto bello ed è anche semi-matte, quindi top. Adoro questo packaging, davvero molto carino da tenere proprio sopra le scrivanie. Prossimo, prossimo, qua l'ho fatto numero otto. Adesso è il numero nove. Anche queste caselle, no, delle caselle più alte. Perché ci sono vari tipi di caselle. Quelle più piccole, le più alte, le più bassine, alcune gigantesche. Qua troviamo un altro prodottino di Aroma Actives Laboratories. Ah, è tipo una crema riparativa, non so come si dice. Però che si può utilizzare sia sul viso che sul corpo. Smoothing Universal Hair Hair Cream. Hai le mani screpolate, l'appi sulla mano. Hai una parte del viso che si secca molto. Quindi io, tipo in questo periodo, mi secca tantissimo questa zona qua del mento. Quindi la si può applicare o in qualsiasi altra zona del corpo. Quindi sempre utile, principalmente adesso che sta arrivando l'inverno. Poi vedremo se funziona. Prossima casella, casella di numero dieci. Che si trova invece qua in basso. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Una maschera alla vitamina C. Io adoro le maschere alla vitamina C. Perché di solito funzionano molto bene sulla mia pelle. vitamina C, quindi antiossidanti dopo i 30, va sempre bene. Anche questo io credo sia un full size. Perché comunque sono 20 ml, magari un pack piccolo. Abbiamo semplicemente ignorato il numero 3. Perché siamo già all'11 e mi ero dimenticata. Cosa c'è il numero 3? È un maschera con tripla azione nel colore nero di Iconic London. Scovolino di quelli piccolini. Anche questo non lo dovete provare. Magari li vediamo prossimamente nei video make-up del canale. Andiamo adesso di numero 11. Numero 11 è gigantesco, pesantissima. Alcune caselle hanno dei simboli nella parte dietro. Non tutti. Alcune, tipo questa ha questo simbolo, questa ha questo simbolo. LF di Look Fantastic. Non so cosa significa, però un dettaglio in più. Questa è proprio, non ci stava neanche all'interno della casella. Vai, esci. Ancola, ah no, ecco, è enorme, è pesantissimo. Un scrub lavante purificante al sale marino. Per i capelli, grassi e cute sensibili. Quindi è un scrub per i capelli. Che figo. Wow, guardate. Package in vetro. Proprio molto, molto pesante. Un profumino di pulito che non avete idea. Dai, questo è curiosissimo. Non vedo l'ora di provare del brand comunque di Christophobis. Ho già alcuni prodotti di questo brand, però non l'ho mai provato. Questo sicuramente è una full size. Ed è 250 miele di prodotto. Cioè, top. Io mi sono già persa. Non so in quale casella siamo. Facciamo la di 14. 14. Casella picolina, leggera, con una crema hair repair di... Sasha Sakahuan. Come si chiama questo brand? Come si pronuncia questo brand? Non ho idea. Ma è questo qua. Allora, immagino che sarà una mini size, però di 30 miele. Anti-freeze. Comunque, mi sembra una maschera. Facciamo il numero 15. Il numero 15 è una brow gel con il suo scovolino. Solita cera trasparente. Questa qua la utilizzo più che altro quando la brow amination, perché sennò sui miei peli proprio non funziona, perché sono molto duri. Comunque, la casella numero 1 l'abbiamo già aperta? Sì, l'abbiamo già aperta. Fammela togliere. Dai, vediamo la casella 16, 13. Abbiamo la casella numero 13. Anche questa. Leggerissima, troviamo all'interno un Hyaluronic Argan Age Protective UV Lip Scrub. Wow, adoro. Io adoro applicare, fare dei trattamenti proprio sulle labbra per tenere sempre belle fresche. E questi così sono davvero belli, perché alcuni arrivano nel vasetto e quindi sono magari anche un po' scomodini da utilizzare. Ma questo... Sì, non vi è dolore di provare tutte queste cose. Casella numero 16. È leggerissimo, sembra quasi che non c'è niente. Però all'interno troviamo una matita di Inica Organic. Una matita per gli occhi. Che è abbastanza nera. Casella di numero 17. Troviamo un Plump Glow Hydrating Facial Mix. Ossia, con spray per il viso, per idratare il viso, per il pre e post make-up. Poi ovviamente devo vedere bene tutte queste diciture per capire esattamente il momento di usare i prodotti, ma così veloce è un po' complicato, perché l'inglese... Dai, apriamo la casella del numero 12 che è stata dimenticata, poverina. Abbiamo tanti prodotti idratanti, tante creme, tante cose del genere. Ah no, questo invece è un Cleansing Balm. Io adoro il Cleansing Balm. Secondo me è una delle cose migliori per andare a struccare il viso, principalmente quando ci trucchiamo molto, perché va proprio a sciogliere il trucco del viso in maniera molto delicata e quindi non va a stressare la pelle. Ecco, è il mio prodotto preferito per strucarmi la sera. Cleansing Balm sempre per tutta la vita. Prossima casella, casella Beauty numero 19. Cosa c'è all'interno? Mi sa che è un prodotto di make-up di Luvia Cosmetics. E sembra essere una palettina. No, vabbè. È una palettina. Vediamo i colori. Uh, con due colorazioni. E che secondo me saranno molto bene sulla mia carnagione. Mi piace. Mi piace che non sono colori... Sono colori che si possono usare. Cioè, non è che hanno messo all'interno dei colori che magari nessuno compra e quindi... No, cioè, mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo la casella di numero 18. Ah, questo c'è all'interno un store in condition del brand Philip English. English? English? Io ho già un'altra crema di questa. Però non l'ho ancora provata, la devo provare. Eccomi tornata. Si è riscaricata un pochino la batteria, però vediamo il prossimo prodottino che vi stavo dicendo che è un sero. Urban Defense Serum. Probabilmente un sero che protegge dalla poluzione, del smog, eccetera. Del brand Zelens. Io ho già provato alcune cose di questo brand e mi sono piaciute un sacco. Casella di numero 21 abbiamo questo, che non so che cos'è. Biodegradabili. Ah, è una di quelle pietre per fare i massaggi. Adoro. Avevo di quelle pietre per fare i massaggi la mattina o la sera, insomma. Per attivare un po' il microcircolo sanguigno del viso. Allora, questa non sembra essere di pietra. Non ne riesco a capire che materiale sia. Comunque, super chicca. Casella di numero 22 è un pump erasing body scrub, sfogliante corporale, con 10% di AHA. Questo credo sarà molto interessante per applicare tipo sui glutei, dove ho alcune macchioline. Potrei provare. Di solito quando ci sono questi acidi hanno anche un'azione di schiarire un po' la pelle, quindi dove ci sono delle macchie, eccetera. Quindi proverò, proverò e vi farò sapere. Se volete sapere quali sono poi le mie opinioni, insomma, magari un prodotto in specifico, scrivetemi su Instagram. Mi trovate come Brigida Ferracini con due i. Ma adesso andiamo alla casella di numero 24, una delle due ultime, che adesso manca solo la 25 e avremo finito. Un prodotto di The Ordinary è l'acido mandelico al 10%. Dovrei vedere qual è la funzione principale per la quale si usa l'acido mandelico. Vediamo come riuscirò a sfruttare questo. Tra l'altro io di The Ordinary sto provando un siero per la crescita delle ciglia. E ciglia e sopracciglia. Tra l'altro sulle ciglia no, è un po' difficile. Però dopo sulle sopracciglia ho notato già una differenza qui. Sono gasata. Adesso, ultima casella. La tolgo già qui perché è un casino, casellina di numero 25. Cos'è mi aspetta all'interno della casellina numero 25? Ah! È una spazzolina per il viso, una spazzolina per la pulizia viso. Cioè abbiamo proprio un trattamento completo qua di tutto. Per la casa, per i capelli, per il corpo, make-up. Proprio un mix di prodotti incredibile. Mi piace un sacco perché hanno lavorato su varie fronte. Cioè non sono rimasta solo in una tipologia di prodotti ma in varie. Adoro! Super cute! Ah, e questa funziona con le batterie. Non ha il caricabatterie ma funziona proprio con le batterie che si inseriscono all'interno. Settarle così in silicone. È proprio un po' simile come è fatto anche la... Quella famosa che c'è l'UFO, le varie tipologie di spazzoline viso. Molto carina! E ha anche più intensità e varie velocità di vibrazioni. Sì, mi piace. La testina tutta in silicone. E questo è tutto. Abbiamo aperto tutte le caselline. E probabilmente questo potrà diventare un bel giocattolo per Ariel. Per mettere tutte le sue mimbambole. Bellissimo questo calendario dell'avvento. Bellissimo questa esperienza. Adesso è il tavolo pieno proprio di casse, di prodotti. Comunque mi sono divertita un sacco. E spero che anche voi siate divertiti. che vi abbia fatto un po' di compagnia con questo video. Se vi è piaciuto, lasciate il vostro like. Comunque io per adesso vi lascio e noi ti vediamo nel prossimo video. Ciao! La non va me deixare in paz. Buongiorno!